Quindi concludiamo questa mattinata con questo tema degli orti urbani, l'architetto è avvocato Petrocchi, ci sta bene un avvocato essenziale sulle problematiche ambientali, dico sempre che quando io faccio le reti ecologiche poi alla fine se non c'è un bravo segretario comunale che trasforma in norme quelle che sono le mie esigenze non serve a niente, quindi c'è un grandissima stima degli avvocati che dedicano proprio tempo e attività alle problematiche ambientali. Ora lui è parte di Italia Nostra, quindi ci tenevo anche a recuperare un po' Italia Nostra perché ultimamente non la sentiamo molto, era anche un po' uno stimolo per riprendere una presenza più continua sulle varie questioni. Questo tema degli orti urbani mi sembrava di concludere appunto nel modo migliore, abbiamo fatto una carellata di ricerca che questi nostri studenti magistrali, poveretti, hanno un momento anche di confusione, ma è dalla confusione che poi nascono le scelte migliori. E quindi grazie per essere venuto sia a titolo personale che per quanto riguarda l'Italia Nostra. Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto il professor Blasi che ha invitato Italia Nostra e con lui anche personalmente ci siamo conosciuti solo recentemente a un convegno a Roma ma subito abbiamo stabilito un rapporto di amicizia e simpatia, di condivisione di certe idee. Lo ringrazio anche e soprattutto perché ha voluto in questo importante incontro introdurre il tema degli orti urbani dell'agricoltura che non è un qualcosa di separato appunto, non è qualcosa di diverso dal verde urbano, dicevo, dalla tutela e dalla qualità della vita in questo senso dentro le città ma è un qualcosa invece che lo sostanzia profondamente. Il progetto nazionale Orti Urbani di cui io sono responsabile nasce già da dieci anni, l'abbiamo presentato con questo video adesso all'Expo di Milano, nasce con un protocollo d'intesa con l'Anci e poi anche con un altro protocollo con l'Anci e con il Ministero delle Politiche Agricole, non è un qualcosa di... l'accordo formale è molto semplice, prevede alcuni valori fondamentali ma è qualcosa di molto semplice che si cala, si vuole calare proprio nella realtà, nella realtà operativa di tutti quanti. Ci siamo rivolti ai comuni perché esprimono il territorio, quindi grazie all'Anci abbiamo raccolto ad oggi molte adesioni, più di 40 a tutta Italia, ma ci sono anche istituzioni religiose, private, di qualsiasi genere. Ma essenzialmente è un modulo, così io lo posso definire, lo potrei definire, di economia etica a favore delle comunità, attraverso l'agricoltura, attraverso un'agricoltura di qualità. In questi termini abbiamo ripresentato la Carta dell'Idea a Milano, siamo stati apprezzati per questo e riportato nei vari report. Eravamo al tavolo 34 della coesione editoriale, quello che faceva capo a Del Rio quando era sottosegretario, perché tutti hanno convenuto sul fatto che l'Italia, pur avendo un grandissimo, forse il più grande patrimonio paesaggistico e culturale, non lo sa valorizzare appieno, non lo sa mettere, come si dice, a sistema, non lo sa far valere. C'erano ovviamente molti operatori economici, noi come Italia Nostra portavamo soprattutto i nostri valori culturali. Quindi in questo senso abbiamo sottolineato l'importanza che si recuperi da parte delle comunità un valore col territorio, con la terra. Oggi abbiamo assistito, ho sentito con grande interesse, tutti gli interventi che hanno contenuti scientifici di grande rilievo. Ovviamente non è su questo terreno che è il mio intervento, l'intervento di Italia Nostra, ma è un aspetto che in qualche modo fa da cornice, ci permettiamo di dire, non solo perché è delle nostre 60 anni che porta avanti questi valori, ma perché ritiene che per far transitare anche tutto questo gran patrimonio scientifico che oggi è stato sottolineato, evidenziato, e che non tutti sanno a livello così specifico, ma si sa, sono quelle cose che bene o male, o si potrebbero sapere, perché chi non sa ormai che i cambiamenti climatici sono dovuti all'effetto serra, all'aumento dell'inquinamento, e che quindi il verde in qualche modo, ce lo insegnavano fin dall'elementare, che in qualche modo il verde è qualcosa con la festa dell'albero, insomma, queste cose, però noi viviamo purtroppo oggi in una situazione che è di, come dire, potrei dire, non abbiamo più il problema dell'alimentazione, della fame come era negli anni forse 50, abbiamo superato quella fase, però viviamo una fase, da un altro punto di vista, di povertà culturale, questo io registro nella presentazione di questo progetto Poi Tutta Italia, dove l'abbiamo presentato, e che è quello che poi ci fa dire, come dicevo prima, che non sappiamo valorizzare il nostro patrimonio, non sappiamo far transitare alcuni valori, troviamo le città inquinate, non sappiamo far valere anche nei dettagli quello che è il nostro valore, il nostro patrimonio, parlo di dettagli, perché i dettagli non sono una cosa secondaria nel redurbano, nel verde, se noi dobbiamo fare una panchina, un vialetto, se dobbiamo fare un muro a secco, se dobbiamo mettere le piante, o se dobbiamo, come dire, fare delle bordure, quelle che abbiamo visto prima al Palasporto e all'Euro, che hanno quelle, come sono state chiamate, dei collari, che hanno asfissiato le piante, ecco, quelle cose sono il simbolo, sono dei dettagli, qualcuno potrebbe dire, vabbè, che importanza hanno, in fondo sono delle piccole, no, quelle sono proprio il simbolo della nostra condizione italiana, la nostra povertà culturale, perché chi non capisce che fare una cementificazione o fare, che posso dire, un muro a secco, ruinarlo e farlo tutto di cemento, è evidentemente un ignorante, perché non siamo riusciti a trasmetterlo con i sistemi tradizionali. Per farla breve, che cosa voglio dire con questo? che noi abbiamo fatto questo progetto, non soltanto per dimostrare che è importante l'alimentazione a chilometro zero, per creare spazi verdi, per sottrargli all'inquinamento e tutte le altre cose che sono state dette, ma perché abbiamo voluto, in qualche modo, dare la possibilità alle comunità di percepire direttamente, con un sistema semplice, il valore delle cose. Quando noi parliamo, per esempio, di olivo, quando parliamo di cultura del verde, di piante, dobbiamo far capire le differenze, le dobbiamo far capire in modo non standardizzato. Io in tutti i convegni che ho fatto, un po' a tutta Italia, per questa presentazione, spiego sempre che una cosa è l'olivo della Puglia, una cosa è l'olivo dell'Umbria, una cosa è l'olivo della Licuria e a questo si accompagnano paesaggi diversi, modi di vita diversi, culture diverse, il paesaggio agrario diverso. Questo paesaggio, l'olivo in particolare, entra con gli orti in alcune città storiche, tutte le città storiche hanno il proprio orto, come era storicamente. Non c'è, io penso che quasi tutte le città italiane abbiano una via che si chiama via degli orti, ma questa via degli orti non era lo spazzetto semplicemente, come dire, l'orto vuole l'uomo morto, morto di fame, appunto, è diventata invece un modo, era un modo proprio di legare l'uomo con la terra e di fargli capire i cambiamenti stagionali, fargli vivere la vita con una qualità migliore, tutte cose che oggi l'abbiamo persa. Abbiamo perso l'identità e il controllo sul nostro territorio, non riusciamo più a controllarlo perché la comunità è diventata in qualche modo legata a messaggi virtuali di comunicazione. Non mi voglio dilungare più di tanto, vi voglio solo dire due parole sul video che oggi vedrete e sul quale ci siamo incentrati su 5-6 situazioni, non potremmo metterle tutte ovviamente, ma che danno un'idea di varie tipologie di orti e che si legano proprio in nome di queste cose che ho detto. È stato presentato al Gispote Milano, la pagina iniziale è anche il logo di Dalle Nostre, abbiamo registrato il marchio e è la fotografia della città di Palmanova. La città di Palmanova l'abbiamo scelta, era questa fortificazione di questa città che è stata definita città ideale, ma noi non l'abbiamo scelta tanto per questo motivo, ma l'abbiamo scelta proprio perché essa esprimeva la compenetrazione soft tra campagna, agricoltura quindi e urbanizzazione in modo dolce e non con lo sprawl come oggi ci è stato più volte ricordato in modo aggressivo. Ecco, quindi vi auguro buona visione. Grazie. Mi metto là così la volo se vuoi.